Sì, aspetta, ne faccio più di una, un attimo solo, aspettate, dovete avere pazienza, attenzione, questa è quella buona, bellissima, tagliate. Metteteli al centro, qui vai, dove sei tu adesso? Giulia, alzate la voce. Fai entrare tutti qua, fai entrare qui visto. Prego, prego, prego. Mi va. Mi va. Mi va. Mi va. Mi va. Fatti così, di a... Eh sì, sì. Sì, sì. L'altro è gianca, qua. L'altro è l'idea. Mi spiace che non ci sia preso i miei sindaco di scusa per non essere presente qui al delegato e mi spiace che non ci sia preso l'onore per fare i complimenti. E' un'ottima spiace politica e economica, infatti c'erano anche tanti negozi nel punto del tempo e abbiamo voluto inaugurare questa mostra oggi perché era una giornata un po' particolare essendo la festa dell'Immacolata. voleva essere un po' un richiamo ad una svolta, dare una speranza di ricominciare anche con il nostro percorso artistico, noi siamo l'associazione Lauriat, artisti in cammino, un gruppo di amatori e ci siamo ritrovati con il desiderio di voler mettere in luce quello che è il nostro diretto, poi chi è più esperto e chi lo è meno ed è bello perché questa associazione sta crescendo, quindi abbiamo proprio il desiderio di manifestare a Lauriat, il nostro paese, quella che è la nostra voglia di comunicare il nostro desiderio di cultura, anche di espressione culturale e comunicativo. Ci sono i nostri quadri, una piccola parentesi, la vorrei aprire in atto, sono presenti i quadri realizzati da alcuni ragazzi del centro di salute mentale che stiamo seguendo e che si appassionano, attraverso l'arte sono chiamati, si sentono proprio liberi di potersi esprimere, loro piace questo momento e poi per il resto c'è una varietà di colori, di temi, di espressioni varie che sono tipiche insomma del carattere di ognuno di noi. Speriamo che contenendoci con le misure Covid riusciamo a portare avanti almeno fino al 31 che è la data di di scadenza che si prefigge questa mostra. Ringraziamo appunto l'assessore La Banca, Gennaro Rasti, laurea Lucia Guerriero per la loro presenza e tutti coloro che sono convenuti e che converranno. Grazie a voi di averci invitato e speriamo che sia di buon auspicio questa ottima iniziativa di queste ottime, di ottime professionisti per un buon prosieguo, inizio in un prosieguo dell'effessività natalizia per tutti quanti. Grazie di nuovo. Agli artisti diciamo se vogliono dire qualcosa. Adesso lasciamo la parola agli artisti che presenteranno grandi idee le loro opere. ricominciando dal nostro forte maestro Nicola Manfredelli. Io sono un soggio di laurea art, che dovreste mettere di fronte? Cino ai quadri, sì, però male. Allora, io praticamente sono autodidatta, quindi non ho fatto nessuna scuola, praticamente ho imparato da solo. E come si dimigiano le mie opere, cerco di rappresentare quello che vedo come reale, insomma, questo è il mio stile pittorico. Poi comunque come associazione laurea art ci siamo previstati degli obiettivi di cercare di praticamente di avvicinare quanto più possibile la gente verso l'arte. Non tanto con le nostre opere, proprio nel mondo dell'arte, che non è tanto semplice. E niente, poi stiamo cercando di fare anche dei corsi per bambini e anche per adulti. e in più stiamo cercando di organizzare anche una mostra, no, no, una mostra, un estemporaneo, un estemporaneo, ma non mi viene la parola, perché c'è un estemporaneo tra cui qua c'è un grande artista, ragazzi. Sì, così verranno pittori, diciamo, dalla Calabria, dalla Campania, dall'Abruzzo, insomma, verranno pittori di un certo livello. Questo per luglio prossimo. Bene, poi se c'è qualche altro artista, allora c'è Claudia Di Fazio, l'architetto Claudia Di Fazio. Ma che dire, io dipingo da quando ero piccola, dipingevo sulle pareti di casa e mamma si arrabbiava praticamente. Poi il mio percorso, anziché orientato alla pittura, diciamo, si è orientato verso altre cose, architettura, ma la passione, una delle passioni più importanti è questa. Ho insegnato, naturalmente, nelle scuole artistiche e medie, ma non ho mai avuto realmente il tempo per dedicarmici come avrei voluto. Insomma, dal momento che non insegno più perché sono in pensione, ho deciso che dovevo sviluppare questa mia passione. Diciamo che sono molto attratta un po' da tutti i generi, ma in particolare dall'astratto, più che dal figurativo, perché con l'astratto mi diverto molto di più. Amo i colori e ovviamente il mio lavoro consiste in un equilibrio tra forme, linee e colori. Insomma, in particolare qui ho, diciamo, cercato dei miei lavori che sono stati in parte due creati, una per il 25 per la ricorrenza della, diciamo, la violenza contro le donne, per cui c'è un volto triste, insomma, che dichiara la resa rispetto alle violenze che le vengono fatte, altri due invece li ho, diciamo, scelti in funzione del colore acceso, che è quello della passione, un pochino più, poi magari li faremo vedere, insomma, un pochino più allegri, quindi i fiori, la natura, però sempre vista a modo mio. E poi c'ho un mio autoritratto, insomma, mi sono rivestita a fare questa cosa, ma ho cose molto diverse tra di loro e la mia intenzione è comunque riuscire a trovare uno stile che sia unico, insomma, che un po' dia equilibrio a una possibile mostra personale domani, insomma. Claudia, la pittura ti astrae, ti immerge in un mondo tutto tuo o ti apre invece agli altri? La pittura è qualcosa che si fa in assoluta solitudine, insomma, almeno per me, perché mi riesca bene. Però mi astrae, ma è anche terapeutica, insomma, nel senso che tutti i problemi che io ho, nel momento in cui dipingo, insomma, sembrano quasi svanire. Cioè, io non mi accordo che che ora si fa, praticamente, quello dipingo. È ovvio, però, che non dipingo solo per me stessa, insomma, perché, insomma, Terere ripindi a casa, insomma, le proprie creazioni. Io le chiamo creazioni per adesso, non le chiamo opere vere e proprie, perché mi ritengo ancora una, diciamo, una matrice, una dilettante in evoluzione. Spero che piacciono, ho avuto molti consensi in queste ultime cose che io ho fatto, però non è questo il mio genere. Voglio ancora sperimentare, insomma, ed è quello che sto facendo e spero di riuscire a colpire, a sedurre, in qualche modo, insomma, con i colori, con le forme, con le linee, insomma. E non semplicemente, cosa per carità, insomma, giusta, perché nell'ambito della pittura tutti i generi sono possibili, insomma, tutt'oggi. Però, diciamo che l'evoluzione della pittura è quella della strada, insomma, di vedere delle cose, insomma, prese dalla realtà, anche attraverso un percorso mentale assumono altre storie, altre dimensioni. E' quello che mi affascina, poi. Poi, magari, non è capita abbastanza, la dice qua, perché ancora, ma credo, come i nostri centri, poche iniziative di questo genere ci sono state. E poi, magari, ma, ma, insomma, si spera di raccogliere sempre più gente che ha voglia di fare, insomma, che abbia voglia di sperimentare, quindi, insomma, di richiamare l'attenzione del pubblico anche verso questo aspetto culturale, che molto spesso non viene considerato. Una battuta finale. Quando c'è di, quanto, c'è di architettura, cioè degli studi che tu hai fatto nelle tue opere? Tantissimo, credo, insomma, perché, cioè, è inevitabile, insomma, la linea, il segno curvo, insomma, che a me piace molto e che mi rappresenta forse più del resto. Sì, tantissimo. Non in queste opere, non in questi lavori in particolare, però, forse anche quelli più antichi, insomma, no? Dove ero ancora più legata all'architettura che non alla vita. Ma comunque mi divertivo tanto. Perfetto. Io spazio dal figurativo all'astratto, o semi-astratto, insomma. Allora, gli ultimi che ho fatto sono i più recenti. Tra l'altro, sono sul figurativo. Ne manca uno in particolare, che ho presentato alla mostra, insieme alla collettiva, insomma, di tutti, a Maratea Cinema. E poi, questi due, dicevo, sono gli ultimi. Questo è un mio autoritratto trattato a macchie, insomma, alla maniera, diciamo, dai macchiaioli. E questo, invece, che io ho portato alla sala comunale in occasione della festa contro la violenza alle donne. Ecco perché, voglio dire, questo caso è un'opera fatta ad hoc, quindi un volto triste, insomma, con questa pelle che cade giù, insomma, perché è una donna che si arrende. Però c'è il rosso come sfondo, che è il colore della passione e della forza, quindi è una resa momentanea. E quindi queste due cose figurative. Invece, questi altri due sono dei fiori d'alie e papaveri. Mi piace molto il rosso, come vedi, insomma, i colori forti, i contrasti. E questi sono molto, non sono per niente recenti, insomma, credo che abbiano qualcosa come 15 anni, insomma. Quindi ho cose molto diverse. Come ti dicevo prima, la mia intenzione, invece, è cercare di trovare un filone unico, insomma, che mi rappresenti. Pietro, in te c'è un fuoco che arde, non in queste ultime settimane, ma da anni, vero? Vabbè, sì, perché in effetti da ragazzo mi sono dedicato sempre, diciamo, al disegno proprio da ragazzo. E poi man mano, man mano, diciamo, mi sono dedicato alla pittura d'odio, proprio che mi dava la possibilità di poter rieprimere il mio, perché proprio come strumento si collegava di più, diciamo, alla mia persona. Proprio perché riuscivo, con le mentellate, diciamo, con la sensibilità, a trasferirlo sulla tela, qualcosa, diciamo, che mi poteva trasmettere, diciamo, a me da meno, se vengo, diciamo, per un'emozione, ecco, per un'emozione. E poi, con la speranza, poiché questo, raggiunga pure, diciamo, a chi in poche parole mi asserva. Che ho fatto? Allora, questo quadro, che sarebbe un olio su tela, ho voluto trasmettere una persona anziana, e ho voluto trasmettere una persona anziana con, in braccio, cioè la nonna con il bambino, che prima usavano queste famose fasce per, diciamo, per cambiare i bambini, diciamo, quindi erano tenuti con questa fascia. Mi è piaciuta una foto antica, l'ho voluto trasmettere sulla tela. Poi, come paesaggio, diciamo, ho voluto trasmettere questo paesaggio, diciamo, all'aperto, perché dà la sensazione proprio di benessere, di stare all'aperto, in aperta campagna, e per poter ammirare proprio le bellezze della natura che ci circonda. Poi, qua, diciamo, è la sagra famiglia, ecco, trasmessa con Maria, San Giuseppe e Gesù Bambino, che vivono, che, diciamo, ecco, sono nella mangiatoia, diciamo. È sempre un olio su tela, in dimensioni 50-70. Qui, invece, abbiamo un gattino, un gattino rosso, che pure, a me, diciamo, gli animali, i gattini, i cagnolini, sono sempre piaciuti, diciamo. E qua, in quest'altro quadro, invece, c'è un'altra natività, col bambino, che, diciamo, la tecnica è un po' diversa, e un pastello su cartoncino. Infatti, io, da ragazzo, ho sempre disegnato un po' col pastello, e quindi, un po' così ho voluto ritornare, diciamo, alla tecnica base, diciamo, che mi ha accompagnato da ragazzo, diciamo. Maria Fallabella ha un'esperienza davvero notevole per quanto riguarda l'arte, e, tra l'altro, utilizzando anche del materiale speciale, è vero, signora? Sì, io ho iniziato dagli anni 70, ero giovanissima, a dipingere sulla stoffa, sulla seta, in particolare, che poi è stato il mio lavoro per un periodo di tempo. Poi ho avuto, da qualche anno, il piacere di conoscere il gruppo arte, laurea arte in cammino, e mi sono entusiasmata anche con le tele, così, questa tecnica, e ho fatto qualcosa, perché a me, cioè, io stare senza questo, l'arte mi piace, mi piace in tutti i sensi, però poi la pittura in particolare, e se io a questa mia età non facessi queste cose, questo impegno, se non avessi questo impegno, forse mi sarei più contritta, non so, mi fa bene, e ci vivo bene, anche perché si sta insieme agli altri, sono tante le cose che fanno vivere bene in questo ambiente. Ecco, il valore dell'amicizia è l'altra gamba di laurea arte. Infatti, questo è che volevo concludere a dire. Signora, ecco, c'è una mostra, c'è questa mostra, vi è poi in parallelo un'altra esposizione a Palazzo Marangoni, quindi c'è tanta voglia di dialogare, di confrontarsi con le persone. Con le persone, di vivere, per me è vivere ancora, perché ho una certa età, e mi entusiasma questa cosa, e mi fa vivere bene. Infatti, al Marangone mi hanno dato la disponibilità di poter esporre i miei lavori su seta, sul tessuto. Adesso sono alla ricerca dei tessuti antichi che non si trovano più. C'è parecchia roba di tessuto di ginestra che ho avuto modo di trovare a casa delle persone un pochino più anziane, dove hanno conservato questi tessuti particolari. e c'ho un dipinto sopra. E mi ha tanto gratificato, perché sono cose che sono in istinzione, e mi interessano. Complimenti, complimenti. Sì. Allora, Antonella Schettini, anche lei protagonista di Lauria Art, di questa mostra in Piazza San Giacomo, con un lavoro molto particolare, molto specifico. Ecco, ce lo puoi descrivere? Allora, sono Antonella Schettini, appunto faccio parte di Lauria Art da anni ormai, diciamo quasi dalla sua creazione di questo gruppo. Io sono, praticamente, un'artista che lavora a livello digitale, quindi su computer, con tavole grafiche, quindi poi si va a sviluppare questo tipo di arte. la mia è molto, diciamo, influenzata anche da stili riguardo fumetto, o illustrazione asiatica, giapponese. Il mio percorso, diciamo, è iniziato sin da quando ero piccola, che partecipo sia a gare che concorsi, e poi col tempo anche mi sono iscritta anche a scuole, come all'artistico, iniziando all'artistico di Malatea, e poi sono andata alla Comics di Napoli, che è una scuola di fumetto, illustrazione e animazione. e la mia specializzazione è illustrazione e colorazione digitale e fumetto digitale. Poi si... Ti potremmo definire un artista 2.0? Sì, diciamo che è una versione moderna di quello che è già l'arte di per sé, perché fondamentalmente tu l'arte la guardi comunque già attraverso uno schermo, che sia la televisione, che sia un telefono o un computer, o qualsiasi cosa, alla fine si guarda attraverso uno schermo. La mia è direttamente sullo schermo, e poi si può riprodurre su vari supporti, che sono la carta, per fare dei quadri, oppure, non si so, se vogliono fare magliette o cose varie di questo genere, anche su altri supporti, quindi diciamo è importare l'arte un po' ovunque, sia a livello, diciamo, meno tangibile, come può essere appunto una visione digitale, che è più realistica, poi stampata, versione classica, si può dire così. Antonella, tu sicuramente conosci Mariano Lanziani, è un nostro compaesano, così come Migliora Rocca, che è stato uno dei discepoli principali di Mariano Lanziani, ecco, nel guardare le opere di questi grandi maestri, molte delle quali sono nelle nostre chiese, ecco, che sensazione provi, e stupore, e meraviglia, anche un po' invidia, magari, perché loro erano bravi davvero. Eh sì, la bravura poi è una cosa che va a prescindere dal mezzo che si usa per produrre arte, quindi sì, c'è anche dell'invidia, ma anche dell'ammirazione, quindi se io appunto volessi, adesso questo, il mio stile è un po' più semplice, un po' più volutamente semplice, perché per quanto possa ammirare un certo tipo di stile più realistico, più classico, se vogliamo dire, sono sempre stata amante dell'arte moderna o contemporanea, quindi forme più astratte o più semplici, se vogliamo dire, usate questo termine, anche in maniera molto scorretta, al mio dire, quindi anche opere come, non solo quelli nostri, ma pure a livello di Caravaggio, eccetera, li ammiro, li studio anche perché, a livello tecnico, in quanto composizione, luce, uso dei colori, e poi si può prendere quel tipo di struttura e applicarla poi a varie altre, potrei applicarla anche io, con una versione appunto digitale, moderna di questa tecnica. Parlando solo di Lauria, ovviamente sapendo che è un piccolo tassello rispetto a Città di Caravaggio, qual è l'opera d'arte presente a Lauria che da piccolina, insomma, ti è sempre piaciuta osservarla e quando la vedi la guardi sempre con piacere? Ah, perché a me da piccolina sono sempre stata fan più che dell'opera artistica in sé pittorica, che a me l'architettura, mi piaceva molto quando ero piccola, infatti molte strutture architettoniche come appunto la chiesa di San Giacomo, che è molto particolare se la si studia a livello proprio architettonico, e sia molto, come posso dire, decorativa che molto standard secondo altri livelli e poi pure all'interno è decorata con questi affreschi di La Rocca che sono... a me da quando ero piccolo sono sempre piaciuti moltissimo, poi gusti personali, però quando andavo in chiesa, sembra brutto dirlo, però mi perdevo molto a guardare queste opere, quindi è bello valorizzare anche questo genere. Poi lauria nel complesso, proprio a livello architettonico, è molto fornita possiamo dire, perché si possono dire molte cose di molti paesi in zona, però abbiamo anche noi le nostre qualità e le nostre bellezze. Forse a livello è un po' superiore a lauria per le opere che ha... anche, però può essere pure che si tratti del fatto che sia legata a questa terra, però sì, sì, anche... Ecco, un'ultima domanda, parlavi di fumetti, ecco, se ci puoi dire la tua passione specifica per i fumetti, qual è il tuo personaggio che ti ha accompagnato nel corso della tua giovanissima età e per il quale personaggio è tisi e affezionato? Allora, io ho iniziato a fare fumetti perché da quando ero piccola ero fan di un autore, Schultz, che è il papà, diciamo, dei Pinions, di Snoopy, di Charlie Brown, ed ero... e quando ero piccolo dicevo, leggendo quelle pagine, quelle vignette, dicevo, pure io voglio che qualcuno poi in futuro legga le mie storie e sia emozionato, oppure si diverte, pure passare il tempo, non deve essere per forza chissà quale emozione, però l'importante è passare il tempo in maniera tranquilla, pure per dilassarti, per staccare un po' la testa. Poi ci sono anche altri autori, più che i fumetti in sé, seguo molti autori, soprattutto italiani, una tra le mie preferite si chiama Mirkandolfo, è una fumettista napoletana che lavora molto nella Marvel, anche nella DC, quindi a livello nazionale è un gran nome e mi piacerebbe arrivare al suo livello pure Gabriele Dell'Otto, sempre fumettista italiano. Cosa pensi delle graphic novel? Le graphic novel sono un bel genere, mi piacerebbe saperlo fare, io non saprei impostare una storia in quel modo, ma sono un bel genere molto esplorativo dell'animo, diciamo, possiamo dire, molto più intenso, perché i fumetti possono indagliare sia da storie più serie che da storie più leggere. Uno tra tutti è Zero Calcare, che è molto famoso ultimamente grazie alla serie che è uscita, ma è un autore romano che sono anni che lavora sulle graphic novel, studiando in maniera molto ironica però la società attuale. Lui ovviamente si basa su Roma, essendo romano, però anche questo è un lato curioso e molto bello, a mio dire, dell'arte. Andrei al cinema a vedere Diabolico? Mi interessa, detto sinceramente, vuoi vedere come hanno adattato questo fumetto. Che non sempre funziona. Esatto, è molto molto difficile, ci sono stati molti errori nella storia del cinema e dell'animazione, dell'adattamento sia versione serie che film, di molti film, anche Dylan Dogg ha avuto un film. Tex Willer pure non andò bene. Anche Tex, esatto, hanno avuto adattamenti non molto felici, possiamo dire. Quindi io spero, gli attori li seguo anche per altre serie. Quindi dovrebbero essere, spero per loro che vada bene, anche per il fumetto, che adesso è un'arte che si sta rivalutando, sta venendo considerata molto di più rispetto a anni prima. Ricordo già quando ero piccola io, era già un po' più difficile a Lauria dire che lei si legge fumetti, sembrava qualcosa di strano. Invece adesso è un po' più comune, sembra qualcosa di più che può interessare a tutti perché alla fine è sempre stato così, ma è sempre stato visto con un occhio differente di film, diciamo. Quindi, se con film, serie tv o cose del genere si può portare le persone ad apprezzare questo tipo d'arte che è chiamata anche la non arte, che è sempre stata un po' bistrattata da tutti gli altri generi, diciamo, a me non può fare che piacere, diciamo. Ci sono anche molti artisti, anche lucani, che lavorano pure nell'ambito del fumetto e uno si chiama Arturo Lauria, che è pure molto famoso e sono felice se viene rivalutato anche a livello locale, di zona, questo tipo di arte. Sono Daniele Candisani, sono un ragazzo di 16 anni e sono per la maggior parte tutto autodidatta, tranne per qualche opera in matita, grazie alla scuola. qui ho voluto rappresentare Scario, soprattutto il campanile, la chiesa e l'immacolata dietro. L'effetto che ho voluto dare, soprattutto per il chiaroscuro, perché l'ho fatto in modo, scrivendo la parola Scario per tutte le parti scure del campanile e anche della chiesa. È fatto con gli ecocolori acrilici e poi le parti scure, cioè le parti nere, sono con il pennarello. Mi interessa qui è una ragazza che per il tema sulla violenza sulle donne, lui rappresenta comunque che la donna si sente bella a se stessa, anche se comunque è vittima di tante violenze, dove ho rappresentato il fuoco e anche che è incatenata attorno a una catena. Però comunque si vuole sentire sempre bella, sempre per sé. Mentre da questa parte ho fatto... Sopra ho rappresentato il concorso Vespucci, per il concorso Lanziani dove ho voluto rappresentare Vespucci con la nave Vespucci e questo qua comunque è un premio che si dà come nave Vespucci, con l'angora dietro per rappresentare un po'. Qua c'è il sistema delle pubbliche marinare. Questo qua è uno scorcio di Roma fatto a penna e questo qua anche è fatto a penna. Questo qua è fatto a penna con pennarelli vari colori e pennarello nero. Mentre questo qua è sempre escario dove è fatto per la maggior parte con acrilico e pennarello nero e anche con il fine liner come ho fatto anche tutti gli altri. Questa passione quando è nata, Daniele? Ma è nata già da piccolo comunque un po' anche per l'architettura e comunque ho iniziato a appassionarmi a fare tutti questi disegni e ora sto scoprendo anche l'acrilico come per colorare le opere. Hai scoperto anche i murales perché sappiamo che hai dipinto un'intera parete di casa. Sì, ho fatto sia lauria sulla parete e ho fatto anche un altro dipinto piccolino un po' più piccolo sembra un altro murale sono rappresentato un albero con un po' il paesaggio. Ecco, rispetto alla tua generazione e ai tuoi amici ti senti tra virgolette ma in senso positivo ovviamente un po' strano rispetto a chi ti prendono un po' in giro o invece ti spingono a continuare? No, vabbè comunque molti spingono a continuare perché anche molti dei miei amici comunque vanno pure a scuola e comunque tutti quanti siamo un po' artisti comunque ognuno in vari modi non solo nell'arte ma anche per esempio nella letteratura comunque ognuno nel proprio... Ecco, per concludere Daniele i genitori a volte sono dei freni a volte invece sono persone che valorizzano spingono il tuo caso i miei genitori invece mi spingono molto perché è una cosa comunque importante che per il futuro comunque invece non mi hanno mai frenato anzi mi danno consigli soprattutto comunque perché hanno più esperienza di me quindi mi hanno consigli per andare avanti sempre Un'ultima domanda banale ti chiedo scusa tra una finale di Champions League tra la squadra del cuore e un'altra squadra e una straordinaria mostra di Pablo Picasso per esempio tu dove andresti? Dipende anche dalla mostra perché comunque il calcio lo seguo però comunque la mostra è bella dipende dall'artista ovviamente però comunque anche dipende anche dall'esposizione se comunque sono interessato molto all'esposizione grazie grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.